La rinascita di Farindola e di Rigopiano, ferite a morte dalla valanga dello scorso 18 gennaio e che causò 29 vittime dagli incendi che stanno interessando da giorni anche le versante pescarese del Gran Sasso, passano per iniziative territoriali che vogliono propagandare le eccellenze del territorio nell'ottica di un rilancio dell'intero comprensorio e il caso di Pecorino e Pecorini, rassegna enogastronomica che quest'anno tocca il decennale e immerge nuovamente Farindola. in tre serate dall'11 al 13 di agosto di gusto e delizia. Abbiamo caratterizzato il paese con dei punti in più rispetto agli anni scorsi, quindi si troveranno ulteriori degustazioni con prodotti nuovi e soprattutto con la caratteristica riedizione del viaggio del formaggio che quest'anno verrà svolta con una nota nuova. Sono 23 cantine abruzzesi che propongono lo pecorino, ci sono 7 produttori di formaggio e pecorino di Farindola, oltre a eccellenze come il cioccolato di Centini di Bisenti, artigiano del maestro del cioccolato, e miele, olio e altre realtà culinarie abruzzesi tipiche della nostra zona.